La memoria è il maggior rispetto per chi ha sacrificato la vita e non per un interesse personale, ma per la sicurezza altrui. Parte dal rendere merito all'evento e al luogo che lo ospita, il Museo Internazionale delle Guerre Mondiali di Rocchetta Volturno, il capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, nella sua visita in Molise. Il prefetto è stato ospite della cerimonia commemorativa del maresciallo originario di Monteroduni Giuseppe Lombardi, ucciso insieme ad altri due poliziotti il 22 ottobre del 75, mentre tentava di arrestare in provincia di Lucca due pericolosi criminali, poi dichiaratisi affiliati alle Brigate Rosse. I figli Angelo Michele e Nadia hanno donato la medaglia d'oro al valore di cui venne insignito nel 78 al museo, diretto dall'avvocato Duilio Vigliotti. Il questore di Sernia, Ruggero Borzacchiello, ha fatto gli onori di casa ricordando quanto la missione della Polizia oggi come allora rappresenta un baluardo imprescindibile per il benessere dei cittadini, un compito che per Gabrielli è sempre più complicato, considerati i tagli imposti dal Governo. La presenza sul territorio delle forze di Polizia, ovviamente per quanto mi riguarda della Polizia di Stato, è rimessa principalmente a quelle che sono la disponibilità degli organici. Se in questo Paese per un certo periodo si è immaginato che i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri fossero troppi, per cui non è stato fatto il turnover, addirittura sono state cartolarizzate le scuole, poi non ci si può improvvisamente svegliare e dire a Isernia la Polizia Postale è passata da 20 unità a 4 unità. In questo territorio dobbiamo anche prendere coscienza che ad esempio il rapporto tra cittadini e operatori, che nella media nazionale è 240, in questo territorio è 116. Il prefetto ha visitato il museo rimanendo impressionato dalla mole di reperti che vi sono conservati. Ha parlato con gli agenti e incontrato i genitori di Giuseppe Iacovone, il poliziotto rimasto vittima di un incidente stradale durante un inseguimento, poi ha analizzato i fenomeni che maggiormente allarmano la comunità mondiale e locale, le minacce di terrorismo contro cui ha detto bisogna continuare a vivere e non cedere alla paura e poi l'immigrazione. È ovvio che la risposta da un punto di vista delle comunità e dei territori deve essere una risposta diffusa perché sennò si creano le speriquazioni, perché è ovvio che tanto più ci sono realtà che si rifiutano di accogliere e ci saranno realtà che sono costrette ad accogliere anche in numeri assolutamente importanti. Dobbiamo evitare che queste persone siano destinate ad una condizione di marginalità. Io sostengo da tempo che la radicalizzazione non è una causa, la radicalizzazione è un effetto, è l'effetto della marginalità e allora laddove le persone non si integrano, a volte l'integrazione non è solo di carattere economico, è anche soprattutto di carattere sociale, si creano sacche di marginalità che poi sono l'anticamera della illegalità, della criminalità e in una fase ulteriore addirittura di fenomeni di terrorismo.